Musica Meccole di 12 luglio, San Fortunato Martire è il 193esimo giorno all'inizio dell'anno ne mancano 172 al termine il sole sorge alle 5.33 tramonta alle 20.59 la luna si leva alle 1.28 tramonta alle 16.25 il governo austriaco mette in vendita a Venezia la gigantesca statua di Napoleone eretta durante l'occupazione francese in piazzetta di Leoncini viene acquistata da uno scultore per 3.000 lire ma prima della consegna la polizia austriaca ne fa sfigurare la testa a colpi di martello in modo da renderla irriconoscibile Le previsioni per domani tempo nel complesso variabile ma con spazi di sereno prevalenti sulle zone pianeggianti e addensamenti nuvolosi più frequenti su quelle montane associati ai rovesci e temporali sparsi che potranno interessare in parte anche la pianura temperature in diminuzione salvo stazionarietà delle massime sulla costa grazie a tutti grazie a tutti